buongiorno a tutti da Lionel Rovati benvenuti sul mio canale youtube oggi andiamo avanti con Kishot i materiali di Kishot abbiamo visto l'altra volta come andare a segnare i materiali velocemente a un oggetto come andare a scaricare da internet dei nuovi materiali e importare all'interno delle nostre cartelle materiali che ce le troviamo a sinistra sotto la voce appunto materiali qui abbiamo tutta una serie di materiali in ordine alfabetico sono in inglese però se macinate appena appena un po' d'inglese non è difficile vediamo i materiali più comuni quelli più importanti che andremo utilizzare di più che sono di architettura cross the litter sono di pelle e tessuti poi abbiamo il vetro abbiamo le luci i liquidi i metalli poi abbiamo paint che sarebbero tipo pittura plastica abbiamo pietre e abbiamo legno se vogliamo possiamo anche fare una ricerca personalizzata nella riga di comando qui nella riga di ricerca basta che lo mettiamo tipo wood e lui in automatico ci carica tutti i materiali che riguardano il legno se vogliamo invece tipo acciaio steel e in automatico lui mi farà vedere tutti i materiali che riguardano l'acciaio quindi in modo velocissimo posso andare a fare una ricerca del tipo di materiale che mi può interessare oppure posso andare qua velocemente a espandere una cartella e andare a vedere i tipi di vetro in questo caso che abbiamo basici frosted sarebbero quelli tipo palini solid glass quindi il vetro molto spesso o quelli texturizzati qui sotto nell'iconcina noi possiamo andare a rimpicciolire l'iconcina o andare ingrandirla tantissimo per vedere meglio il materiale e il nome del materiale e possiamo fare una vista di tipo griglia o di tipo riga e anche qui possiamo rimpicciolire o ingrandire possiamo tranquillamente andare a caricare sul cloud andare ad esportare i materiali o singolarmente o più materiali o cartelle di materiali basta che io seleziono e faccio l'esporta che in automatico lui me li esporterà posso andare a creare una cartella nuova per poi creare ma è una cartella personalizzata con i materiali miei personalizzati posso importare una cartella eccetera eccetera mettiamo all'interno della nostra del lavoro un cubo diciamo ok e gli assegniamo tipo di materiale quindi diamo nei materiali tipo questo brix perfetto che è perfetto per un cubo e qui vediamo che abbiamo già assegnato materiale con drag and drop dato che abbiamo poi una renderizzazione di tipo reale vediamo subito il tipo di materiale per sapere qual è il materiale che stiamo utilizzando basta che noi o andiamo qui nella nella cartella materiale oppure se ho più ovviamente oggetti all'interno con materiale segnate basta che faccio un doppio clic sull'oggetto dove è assegnato il materiale che in automatico lui mi farà vedere il materiale stesso che stiamo utilizzando in questo caso abbiamo le proprietà quindi nel diffuso quindi nel diffuso vuol dire il colore del mio materiale sarebbe il brix che sarebbero questi mattoncini che ovviamente il diffuso non mi farà vedere il materiale in modo realistico poi abbiamo la ruvidità del mio materiale ma se io vado nelle texture qui in parte proprietà io avrò vedete che nel diffuso ho appunto quello che può essere il colore o l'immagine del mio materiale se io lo spunto qua non vedrò più il mio materiale quindi vedrò completamente nero se lo riaccendo ovviamente mi farà rivedere il mio materiale poi mentre nell'asperità io andrò a vedere a vedere diciamo una simulazione di quello che può essere la profondità il mio materiale anche se perché ho detto simulazione perché se io guardo i bordi del mio cubo vedrò che sono dei bordi perfettamente lisci e il mio mattone non andrà all'esterno del mio profilo del cubo questo perché vuol dire che non sto lavorando in modo proprio fisico sul materiale stesso ma l'asperità mi dà un'idea una percezione di profondità quindi se io vado poi nella mappatura del mio materiale e vado a ridurre quella che è la mia scala del materiale quindi rimpicciolisco il mattone mi dà ancora più l'idea che ci sia una profondità anche se in realtà non esiste che più l'ingrandisco ovviamente più mi rendo conto che quella che è la profondità è solo una percezione visiva e non è la realtà vedete qui lo vedo benissimo qui laterale perfetto poi posso spostare i miei mattoni sull'asse x posso spostarli sull'asse y e posso anche angolarli quindi dargli un'angolazione del mio materiale anche se in questo caso ovviamente il mattone dovrebbe essere perfettamente orizzontale posso lavorare sui dpi quindi più aumento dpi più il mio materiale diventa grande più rimpicciolisco più diventa piccolo ok poi posso capovolgere i miei materiali sopra sotto in verticale cioè scusate destra sinistra in verticale e poi posso dirgli di ripeterli oppure no in questo caso bisogna ripeterli sui due lati nel senso che lavora su questo lato del mio cubo e sul lato interno in questo caso non serve basta togli due lati che anche a fare qualche una renderizzazione ci mette anche un po di meno luminosità aumento luminosità del mio materiale o la diminuisco posso aumentare il contrasto del mio materiale oppure posso diminuire il contrasto di materiale ok mentre per quanto riguarda il grafico materiale e altri tipi di impostazioni che ci sono all'interno di questa cartella materiali lo vedremo nei prossimi video spero che questo video sia stato utile per qualcuno ci vediamo in prossimi video mettete un like iscriviti al canale e una buona giornata a tutti dalle rovati ciao